Da questa esperienza mi aspetto comunque di apprendere nuove cose nel mio campo lavorativo e penso che mi possa aiutare comunque ad aprire nuove porte e comunque sia una conoscenza in più che mi darà nel mio lavoro e poi penso che comunque sia un modo anche per mettersi a confronto con altre persone e vedere comunque anche loro come la pensano in questo ambito. Diciamo che sono più tranquilla adesso, durante i lavori ero serena, tranquilla perché comunque ero sicura anzi c'è stato un momento che pensavo di non farcela per la tempistica però vabbè ero abbastanza serena e mi hanno detto ma sì, tanto ormai siamo qua quindi giochiamocela come va va. Poi quando dovevo entrare dalla giuria sono in tempo d'ansia e lì mi sono un po' agitata. E poi niente adesso sono più tranquilla, comunque si è entrata bene, mi sono sembrati abbastanza soddisfatti comunque di me e del lavoro che avevo fatto e speriamo in bene dai. La settimana è andata abbastanza bene, sono contenta perché mi sono confrontata con altri come i due acconciatori o come i due estetisti quindi ci siamo messi un po' a confronto e mi è dispiaciuto che ho fatto un po' fatica a trovare la modella perché comunque sia chi doveva scendere, chi no all'orario è troppo presto però sono contenta perché alla fine ho scelto la mia migliore amica che è venuta in procera con me, mi ha assistito in questa esperienza, mi è stata vicino, mi ha dato tanto apporto quindi va bene lo stesso. Grazie. 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 Grazie.